segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te perché questo è un negro questa è la cosa che non si riconosce in questo paese la cosa che non si riconosce in questo paese è che un nero uno con la pelle nera non è come un bianco un giallo che è la classica cosa che dice il razzista no io giudico solo i comportamenti può essere bianco giallo o nero un nero molto spesso per molti nel nostro paese sono neri quelli che non mangiavano gomez per cortesia e poi sentire